Davide Astori e Francesca Fioretti Il giorno in cui ha perso il suo Davide, l'uomo che amava. E il giorno in cui il suo compagno è morto a molti chilometri da lei, in una stanza d'albergo, probabilmente per un arresto cardiaco. E il giorno in cui Vittoria ha perso il suo papà, chissà quanto ricorderà del calciatore, la bambina di due anni che oggi è tragicamente rimasta orfana. Saranno le foto e le immagini di Davide a dare un volto al papà che non c'è più alla piccola Vittoria. Le foto di Davide e di Francesca Fioretti insieme Quelle foto che raccontano la storia di un grande amore E foto di una coppia normale, di due ragazzi giovanissimi che si amano, le foto più belle E Francesca Fioretti e Davide Astori, un amore che sarà, comunque eterno Proviamo a raccontarvi la storia d'amore di Francesca e Davide con le loro bellissime foto, foto condivise con i tanti followers che sui social hanno potuto vivere il romanticismo di questo amore Ci sono le foto di tramonti al mare, le foto dell'albero di Natale fatto in casa pronto a custodire i regali della piccola Vittoria E ci sono i giochi fatti in casa con la bambina Ci sono le immagini dei viaggi, ci sono le foto di un amore vissuto con semplicità Ci sono le foto del primo compleanno della piccola Vittoria Le foto del viaggio fatto in Giappone insieme alla bambina ancora molto piccola Ci sono le foto di una famiglia felice Sarà di certo la piccola Vittoria la di Francesca che dovrà per andare avanti e ricordare Forse anche con queste bellissime foto, che ricordano quanto questo amore fosse unico e speciale Prima dell'arrivo della piccola Vittoria la vita di Francesca era fatta di scatti in costume, di sfilate, di passerelle Poi l'amore per una creatura che cambia la vita e le foto di vita quotidiana che diventano quelle più condivise con i followers che seguono con la vita della Fioretti